Per me è una situazione importante, sono molto felice di essere qui e spero di ripagare da subito la fiducia che mi è stata data. Ringrazio l'Inter che ha creduto in me, ha creduto l'allenatore, ha creduto la società, ma soprattutto il Presidente, che se non fosse intervenuto lui, magari questa trattativa sarebbe andata avanti, invece lui con questa telefonata è riuscito a risolvere. Quindi a maggior ragione ho una grande stima, è una cosa che a me mi rende orgoglioso e quindi avrò tutta la voglia, la determinazione anche per farli credere magari a chi pensa che non possa ancora dare al calcio. Quindi sono qui soprattutto per questo.